Resident Evil 2 Leon, sono sicura che sei già arrivato Resident Evil 2 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 Modalità manuale attivata. Regolare la soluzione in base alla capacità del contenitore. Regolare la soluzione in base alla capacità di raccogliere. Sì. 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 Bentornato, Dottor Lee. Ci sono cinque nuovi messaggi. Cavolo! Avrei dovuto portarmi il cappotto. Raffreddamento completato. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Scusa, piccola, ma dobbiamo svegarci. Andiamo via da qui. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione, sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Claire... 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 Attenzione, sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Attenzione, sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare immediatamente l'ascensore centrale per raggiungere il piano inferiore. Utilizzare immediatamente il piano inferiore. Utilizzare. Attenzione, sequenza di autodistruzione avviata. Ovviamente, la porta è bloccata. Aspetta! C'è... Che stai? Forse posso aprirla dall'altra parte. Merda! Non è proprio il momento! 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 Scusi, una bella squadra! Non è proprio il momento! Non è proprio il momento! Non è proprio il momento! Iniziamo il piano inferiore. Alla detonazione. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.